Ciao ragazzi, bentornati, questa è la seconda puntata di Ori, siamo qui scalpitanti di vedere come va avanti sì sì, volevamo esplorare un po', ovviamente stiamo ancora cercando di capire com'è il gioco, quali sono le modifiche che hanno fatto, non c'è solo l'esplorazione e basta ma ovviamente sappiate che ci sarà tanta esplorazione perché noi siamo più cosi nel cercarci le cose come l'altra volta, volevamo fare il 100% della mappa, ovviamente, però da come abbiamo visto la scorsa puntata ci sono degli elementi in più come le missioni, alcuni molti più personaggi abbiamo la missione Guardiano della Palude attivata che ci chiedeva di parlare con Quoloc, sto leggendo perché non ho questa capacità mnemonica però vedremo, è molto lontano da dove siamo ora, poi vi facciamo vedere magari nella mappa adesso la mappa, ma prima... Sigla! e appunto, eccoci qui nella mappa ragazzi noi siamo qui esatto, che è ancora il 22% abbiamo preso qui le robe questo sembra aperto ma in realtà è chiuso ma è chiuso quindi strano e adesso esploriamo un po' qui ci sono cose da esplorare come vedete l'obiettivo è lontano non sappiamo se oggi ci dedicheremo a quello o se scopriremo... che è successo? o se scopriremo robe vai quindi vi ricordo che ora possiamo appicciarci ai muri eccolo non vedi hai chicco, hai chicco, hai chicco hai chicco, hai chicco, hai chicco no perché poi quando parti... mi sta uccidendo ma no, no tutta scena sì, mi stavo uccidendo comunque anzi io credo che moriremo qui adesso puoi fare il doppio salto esatto e quindi tornare indietro nella speranza di riuscire a restare vivo e sotto c'era il naga no, c'era un punto giusto per darti oh vita modo di yuhi andiamo la mappa allora qui ci abbiamo esatto dove scendere scendere giù aspetta ora lo fai da lì forse conviene a parte no no, è da là sopra dalla sopra non ce la fai ma sì che ce la fai ok qui su non c'è nulla torniamo indietro questa è la zona che dobbiamo esplorare ah ma qui non si può scendere però come no? no qua non si scende ragazzi qua ci si arriva da da sotto da là ok non è un problema andiamo avanti attento attento ecco scusate volevo spostare il mic ok ah avete visto che ora cominciano a avvicinarsi ah no perché altro adesso possiamo andare di qua che prima non potevamo andare sì che potevamo non mi ricordo ma non so in realtà se ora attenzione lo puoi direzionare eh ma non lo potevamo bruciare questo qui perché c'era steady questa è roba che si rompe esatto forse la con la spada lo puoi rompere quello è così vai prova no no ma quello è chiaramente potente quello è solo un frammento di porta della chiave di volta eh però qui non posso ah ma lì c'è una da sotto c'è una cosa no no tu non l'hai vista una leva oh ecco perché è il sasso i nostri amati laser ragazzi laser ce li ricordiamo bene ce li ricordiamo con fastidio ce li ricordiamo con terrore hop 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 allora adesso possiamo c'erano troppe liane su questo coso c'erano troppi ailanti comunque abbiamo un sacco di di potere non so cosa come lo faremo eh ma ancora quello non lo usiamo ma sei matto non è andato non lo speravo vai vai ah ma perché da quel legno io posso andare sotto è sottile esatto mo ti schiaccia eccola è una però a me ne servono due due sì va bene cioè già avere già così presto il potere che ti arrampighi comunque è davvero una svolta vabbè forse perché poi dopo puoi fare duecentomille cose duecentomille cose un numero molto alto insomma mi sembra di intuire Black sì di qua eccola sì la mappa attenzione attenzione gli amichetti ci sono la luce dei pozzi si estende in totale si unisce guarisce ma che carini partita salvata quindi hanno lasciato anche i salvataggi ok però ancora non abbiamo la capacità di potenziarci qui forse non c'è più la cosa dei poteri che puoi scegliere l'abilità sì invece l'esperienza ce l'hai ma è solo quella cosa lì ma la cosa gialla la prendi quindi per cosa ci farai eh sì però lo vedi che non è sotto cioè adesso sotto ci sta x y e a sì no vabbè hanno cambiato alcune cose però noi abbiamo comunque questi 381 gialli che non abbiamo usato quindi da qualche parte un modo per spenderli ci sarà certo certo allora aspetta ora però qui abbiamo esplorato qui abbiamo esplorato qui ci manca uno eccole qua su possiamo andare eh sì che ci manca il secondo la seconda chiave di volta 431 ammazza 437 volevi dire allora attento ma quel cos'era sembra roba con cui si salva secondo me ah infatti sì no ma ora non c'è poco da fare no ricordati che non abbiamo poteri ora ah lo so allora di qua scusate se metto la mappa ogni due secondi è sempre la mia questione di memoria in più non conosco ancora l'ambiente le vertebrine aspetta vieni qua ah sì bravo no però quanto pare no questa semena con una cioè con un po' diciamo che con l'esperienza del primo capitolo è decisamente più facile doppio salto ah da là io non che agilità ma già si ha trovata si vabbè se all'inizio deve essere qua c'è però c'è la acqua tossica l'acqua tossica ancora non possiamo muoverci che però possiamo superare sì questa sembra roba che si potrà rompere a un certo punto poi vediamo dalla mappa per conferma no cioè non te l'ha aggiornato lo sappiamo comunque l'attacco così è molto più efficiente rispetto a quello che era un tempo l'allucina esatto ma chissà dove è andata l'allucina era uno spirito mi pare no ah sì noi senti do ouch comunque tutte queste tutte queste astra sono proprio belle oddio sembrava un dito sì sembrava una mano infatti comunque meniamo proprio tantissimo ok abbiamo penso aperto quel passaggetto che sì che non conoscevamo lì pure possiamo aprire e andiamo in su no qui prima ah quasi pure un pulsante ah ma non abbiamo la culata ancora perché questo mi pare proprio pulsante da culata ti ricordi sì ah forse no eh guarda sì no infatti forse alla fine è solo zona di passaggio non scelta che meraviglia di gioco raga questo si sfascia sicuro a me allora pure quello potevamo rompere già vita oh è il secondo quindi abbiamo potenziato abbiamo quattro però a sto punto io torno qua c'era una roba da rompere aspetta vai da sopra sì stupido 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 salta salta muori nooo vabbè ok mi sembra un buon ricordo chissà se c'è il contatore delle mille morti di Oli è vero l'altra volta c'erano allora torniamo subito subito da quelle parti mi ricordo dove era di preciso era più giù mi pare però qui proprio giù qua giù di qua è questo no no era tutto eccolo da da uoooo attenzione guarda c'è una cosa lì ah qui ti guardo figo che sto sopra orelli questi proprio non hanno speranza è vero che credo l'esperienza del primo cioè sarei curioso di vedere un let's play di qualcuno che gioca questo senza aver giocato il perdono senza aver giocato il primo perché hai un po' di straniamento perché non hai i no secondo me è uguale guardalo uno scaracchione che schifo che schifo ti scatarra addosso questo scoppia sicuro infatti lo scatarro di là torniamo indietro che succede è un po' lentino a caricare certe volte tutto bene si si stavo controllando tutto bene allora da qua si torna dalla strada quella che abbiamo visto lì c'è forse qualcosa ma non pare però noi per sicurezza si lassù no non sembra sembra solo un collegamento a questo ma rischia di morire si infatti scusa eh c'hai tante cose blu no ma qui non ce l'hanno ancora insegnata come no no prima lo facevi tenendo premuto y non muovono y non muovono y non meni dai ok abbiamo esplorato tutta sta zona ragazzi ok perfetto adesso dobbiamo andare tutto a destra ah c'è sempre la solita cosa che in base a come fai il primo salto ti bruci il doppio salto quindi ci devo un attimo riprendere la mano scendiamo da qua ah devi fare il giro da qui da qua si già avere qua ragazzi vi ricordate all'inizio quanto sangue abbiamo dovuto sputare per fare sti salti si si perché dovevi essere preciso invece qua anche se non sei preciso ti ti aggrappi ti aggrappi si comunque scrivete nei commenti cosa ne pensate dell'ambientazione e tutto quanto possiamo parlare con i Moki ragazzi yeee sei uno spirito allora trema spirito e davanti a te Mok il coraggioso ma questo è uno ah adesso si può giocare non particolarmente convincente lo so ma sono coraggioso lo sarei o lo sarei se avessi un trofeo un trofeo come come il teschio di Ululo o magari anche solo una zanna se la testa è troppo pesante ho sentito Ululo combattere verso Est magari ne ha ne ha persa una lungo il cammino ok lui vuole questa è una missione sembra una missione secondaria la missione secondaria per riprendergli la zanna comunque questa qui si vuole far dire vedi l'ho presa io la zanna ma in realtà non è non è coraggioso è un ruba è un ruba merito oh ah questo è ancora quello lì è una versione potenziata no no però è strano sembra più luminosa questo è un altro coso spericolato vediamo un po' infliggi e subisci più danni oh questo non ci interessa per esempio vabbè però ce l'abbiamo questo non ce l'abbiamo ma niente si che ce l'abbiamo ah ti dice cosa hai messo no non capisco forse è potenziabile livello successivo esatto ah si è il livello successivo questo pure è potenziabile sfere però non ci dice da dove potenziare aspetta wow guardate che figata ragazzi guardate quanta roba più di arte quante cose puoi fare ma quelle cose luminose che so la vita e ah vedi i poteri va bene un po' di coraggio in più bellissimo menone per la missione no stupido vabbè questa si fa 1 2 allora stiamo tornando indietro perché io voglio capire questo perché sembra un potere che cos'è esatto sembra quello per planare ad al disegno ah adesso non c'è più l'acqua hai visto no no non c'era l'acqua no questo era quello l'albero di sta forma io non me lo ricordo non era un albero hai acquisito una nuova abilità rigenerazione tieni pronto ZL per assegnarla come sempre non era un albero prima c'era l'acqua qua e c'era e dicevamo ah forse questo si può rompere incanara l'energia per curare ok ora ci possiamo anche curare con X ma posso attivare ok hai visto prima era tutta acqua prima era tutta campagna no non me la ricordo questa cosa mi dispiace forse questo si può rompere però alla fine non c'era niente non so come sparita l'acqua no no non ci puoi andare no però mi pare strano di solito sto gioco te le fa vedere quando succedono le cose no no prima sono sicura che prima c'era l'acqua vedi però sta porta ci siamo passati ma si prima c'era tutta l'acqua non so perché pare che un po' lentamente i salvataggi devo dire qui sopra qui sopra c'è qualcosa ah vero pure questi si rompevano e davo un'esperienza guarda comunque uno conoscendo già no questa la devi attivare è un tipo una leva o qualcosa esatto devi trovare come premere si forse tutto a sinistra dovremo qualcosa allora black vogliamo andare a vedere se riusciamo a prendere quello lì al massimo faremo dei tagli tattici se vediamo che vale la pena tanto oh comunque questi qua pure sono agili si tre attacchi devo ricordare ma più che altro quando cominciamo si quando cominciamo a menare in una direzione salva salva e curati a parte così lo vediamo si cura e basta no di solito si è curato si è curato no prima salvava ora questa cosa non è detto che ci sia più black vabbè vedremo qui ci siamo già stati si vai avanti vai avanti ma perché ora abbiamo cose nuove vabbè no ma poi più che altro te l'avrebbe segnato all'inizio nel primo ragazzi per caricare quelle sfere blu ci metteva tantissimo non li potevi usare perché se no non ce l'avevi mai già che abbiamo il doppio salto ora comunque quanto siamo più velocizzati mi pare che il gameplay è molto più vai su vai su tanto questo fa il giro il gameplay è molto più semplice no più semplice è sbagliato no cioè beh però il fatto che già i poteri che ti facilitano la cosa si ti facilitano la cosa ok però non è che te lo rendono una cavolata no no comunque il gioco è molto più aggressivo non devi premere a casa i tasti e devi essere più aggressivo sì è vero bello quella faccola comunque questi stronzettini menano che è proprio un piacere qua su infatti bravo qua su infatti non ci eravamo andati questo perché non potevamo lo vuoi distruggere però dovremmo poter oh questo sembra proprio zona dove puoi metterti esatto ora con il doppio salto quello lo riesci a prendere e ti puoi aggrappare no questo è minerale di corle che hai trovato del minerale nelle mani di un abile artigiano potrebbe servirti per riparare delle strutture questo servirà per andare avanti in qualche zona oh cunicoli cunicoli di mezzanotte laghi di luna palude di acqua nera va bene però la palude di acqua nera è fino a qua esatto poi dall'altra parte no non andiamo avanti direi di proseguire con la palude di acqua nera là sopra ok continuiamo a esplorare di qua allora sì 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 va bene qui abbiamo esplorato tutto rispetto al primo comunque l'ambientazione è molto simile sì vabbè quello sì anche perché l'identità non la deve perdere eh sì esatto il mondo cioè secondo me è il motivo per cui ti sembra più semplice perché ormai le sue meccaniche le conosci quindi alcune cose al di là delle novità stanno lì e ti stupisci meno di certe cose a breve rivedrò la mappa per capire ok ho capito dove siamo e questo ancora non abbiamo capito come si fa però allora siamo all'amantide di un'altra volta guarda come sta il lentino a caricare la mappa perché che è questo un po' di ah la missione che belli i disegni sì sì qui c'è questo cunicolo qui c'è questo qui c'è tutta questa zona prima andrei verso sinistra no verso su e destra no visto che è la zona lontana da dove dobbiamo fare la missione ah ok prima andiamo indietro sì esatto la chicca devi io in giro da sotto comunque mi sembra un mezzo un mezzo paguro perché ha tipo la zampona da paguro c'è solo la testa davanti oh quello è blu sì perché ci sarà il coso dentro no non lo puoi rompere forse no questo è uno dove farai il salto pericato adesso lo troverai il seal qui non c'è la torcia perché l'hai già usata e ora non ti servono più perché c'hai il tuo potere che mena dobbiamo stare attenti comunque con la spada sai che cosa mi ricorda moss cioè con questa con questa linea che hai che sembrava con un fioretto no sì è vero è vero e sembri moss eh infatti questi qui si tirano su ah quello questo l'hanno già preso in sopra c'è un potere che non possiamo prendere questo però lo puoi prendere quello è un cristallo però attaccati alla parete ma mica lo so se ce la fai che sembra fatto apposta pelo pelo per non fartici arrivare col doppio salto vabbè vai avanti più avanti più avanti vabbè non è un problema aspetta dove siamo ok poi più avanti secondo me a breve cambia zona però ah non puoi scendere perché c'è la non puoi scendere ma puoi andare qua oh che bello tra l'altro sto muschio è benissimo si ricorda i funghi no del primo yeee recupera ottenuto un nuovo frammento diminuisce i danni subiti e questo lo prendiamo buono certo non c'è paragone con quelli che te danno un potere attivo e lì ci passerai dall'acqua quando riusci a camminare a nuotare nell'acqua tossica o la purifichi perché nel primo vi ricordo c'è una zona che poi purifichi se ricordo bene si dopo l'albero però tu c'hai anche la cosa di c'hai anche il potere dell'acqua tossica dell'acqua tonica la famosa no che sto a fare no la mappa volevo di qua vai sopra vai sopra prima vado di qua qua c'è da dove veniamo vabbè quello se ne è andato di là lo lascia andare si si è che voglio prima esplorare guarda ci ha recuperato tutta sta zona e poi andare verso destra come sempre ah ok che non avevamo non avevamo esplorato bene no non potevamo esplorarlo non so nemmeno se ora possiamo però si è messi molto meglio dopo il punto non riesco neanche a capire quante zampe il problema è che qui è molto alto quindi io credo che da qua si vada in una zona nuova ah ma qui ora troveremo l'indicazione verso la nuova zona secondo me a meno che non abbiamo già no siamo ancora nell'acqua nera nella palude di acqua nera esatto ecco come facciamo ad andare lì no lì non possiamo per ora però già che puoi camminare sui muri ripeto allora vediamo di qua qui c'è l'altra zona vedi esatto quindi quello è il limite che non ci interessa superare a noi a parte che da qua si va quindi perché farci tutti sti problemi possiamo fare questo giro fammi vedere di qua ora che cammino no no qui non c'è nulla secondo me comunque no è per andare là no ok quindi ora sappiamo però che anche questa zona è esplorata ouch stupido e ora qui possiamo rompere ah sì cristallo questo lo possiamo rompere ah ma allora dovevamo solo romperlo prima anziché provare a prenderlo ma io infatti non ho detto di io provavo a fare salti sotto guardate è una scimmia oh che bello il guardiano no non è il guardiano sei qui a goderti il panorama incantevole non trovi ammirare ammira la sorgente in tutto il suo splendore è tipo Rafiki è già passato un'intera generazione di mochi da quando le ruote del molino hanno girato per l'ultima volta e gira voce che ci sia un oddio hai visto un altro rapace però è tipo tossico che ci fa stridula qui qualcosa deve averla spinta a scendere dal trespolo forse una minaccia di certo non tu hai una re innocua dobbiamo fare qualcosa al riguardo per tua fortuna io sono un maestro d'armi è lui che ci fa le cose ti andrebbe di perfezionare le tue abilità posso offrirti un bello sconto sul tuo primo acquisto ah è qui che spendi le cose eh sì allora sentinella evoca una sfera spirituale che attacca il tuo posto stella spirituale consuma energia lancia una stella che torna indietro fulgore consuma energia incendi a nemici vicino questa può essere utile contro i boss lancia scaglia una potente lancia di luce consuma tanta energia distrugge il terreno instabile questa ci serve perché serve per passare sì un corpo forte e veloce contro i nemici distrugge il terreno instabile aspetta quello so tutte e due distruggono il terreno instabile che saranno le ossa per esempio un colpo forte e veloce contro i nemici scaglia una potente lancia di luce questa è a distanza però mi dà l'idea esatto io andrei con questa sì pure va meglio che poi la tua nuova abilità la prossima non sarà così a buon mercato se vuoi mettersi alla prova c'è un tempio dello spirito nelle vicinanze il posto giusto per dimostrare il tuo coraggio le nostre state si incroceranno di nuovo fino ad allora tieni sempre pronta la spada e lo sguardo rivolto al cielo abbiamo un'acqua nera oh questa è una sfida che faremo sicuramente tra l'altro vediamo se ora quanto costa ora sono curioso 800 doppio mazza questa 1200 mamma mia quanto ne dobbiamo fare c'è vediamola subito come che così si assegnavano non mi ricordo qual è il tasto per assegnare ZL eccolo quindi questa la mettiamo in A vediamo un po' oh che figata e da giù salta e fallo in giù aha è il colpone di culo super potente bello anche l'animazione molto innovative cioè originale vai vai avanti vabbè direi che da qua possiamo vedere le vertebre allora eh però sono lontane le vertebre e questo? ci serve qualcosa qualche sfera che metterai verosimilmente si è vero come vediamo il simbolo sulla mappa non c'è un simbolo sulla mappa si si che ci sei troppo vicino no invece no e allora non è un simbolo dannati forse ci devi salvare sopra oh questo si rompe vai oh c'era però eh no più avanti più avanti vai no però era eccolo 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 lì è qua vedi è tutto viola dove vuoi rompere no quello è il colpo del coso forse non va bene va potenziato l'attacco no no non è che da qua sotto ci passa è infatti è più semplice oddio forse l'abbiamo rotto noi no 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 allora con calma si è cascato dritto per dritto però non c'era nulla questo è un saltino questo si si però lì sotto c'è roba dove ah si devi cadere e girare subito subito bravo grande eh si bravo che figata vai wow mamma mia tira 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 perché non si è appeso lo sapevo che c'era qualcosa è un altro minerale ok quindi la scimmia però io pensavo la scimmia fosse interessata ai minerali invece che ora non è un fabbro lui è un allenatore si è vero maestro maestro ah non aveva detto maestro dai vabbè forse ah ma no poi non ci ci passi lì devi fare il salto semplicemente no secondo me ci passi ah sotto ah si 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 non è che ti c'è ragione black e quello quello è un potere da là dall'altra parte si non è da qua che ci do mazza è tostina sta parte vai vedi non è che ti uccide da là c'è una leva lì do 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 stai per morire stai per morire stai per morire stai per morire c'è la vita lì non so ma non è proprio difficilissimo allora secondo me raggiungiamo il sentiero però lì c'era una cosa che c'è una leva che secondo me si alzava ma non sei cura perché stai bravo il tempio di acqua nera eccolo ah ecco quindi qui si entra nel tempio io direi che ci si vede salviamo qui non possiamo salvare ancora una volta quello che possiamo fare è però guarisci ah salveno automatico perfetto e ci si riparte qui dal tempio del combattimento la prossima volta ragazzi continuate a seguirci e speriamo un ringraziamento speciale a tutti i patreon i supporter che permettono diciamo un po' il sostegno economico di questo canale e c'ho il singhiozzo e nulla grazie ancora per la vostra attenzione e il vostro tempo mi raccomando nei commenti siamo curiosi di leggervi esatto speriamo che vi state divertendo con noi e alla prossima ciao belli ciao 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 ciao